musica 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 non aspetta io posso puntare roll ma se sono io che lo punto e vedi che sei un gay allora oddio aiuto oddio yikes ioi DIO ah porco non so usarlo e si ostina si ostina a usarlo DIO guarda che c'è il green screen se vuoi prendi un pezzo che ce lo portiamo a casa nooo oh brigante vent'anni che giochi ai videogiochi e dai dio se faccio animazione cosa succede? cosa succede? vedi quella la sei te ah si adesso ce l'ho reso dei conti ma in realtà no ciao ciao niente unlucky rip unlucky shondi spotlight moonlight moonlight mi ha fatto cadere l'ombrello che signore si vede che era pesante guarda quando ricarico la mia tetta quando ricarico no 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 bella è che ci stavano inseguendo accaniti super cattivi adesso entriamo basta no 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 questa la guido io ti uzz in più è massa è urribile però no ci sta a me piace magari te hanno rotto il vetro eh vabbè affan si fottano mostra meglio appena ci fermiamo distrutta la macchina no Eido ti stronzi Eido guardami no c'è la baggata c'evo le piastole baggatissime va bene va bene non egli di nuovo dai abbiamo questo non so cosa volesse fare guarda la macchina che continua ad andare avanti cosa sta facendo la macchina ci stanno inseguendo guardami la mia mano guarda chi si chi si versi che so arrivà boia cappa scappa tiuz no tiuz dobbiamo guidare 2500 metri dio e poi con la macchina no non farlo dai cercherò di essere veloce allora qua piove è una giornata un po' così uggiosa e c'è come si chiama stato che spara Pierce Pierce che spara deve sempre sparare rompere le palle così la gente inizia noi non avevamo stelle all'inizio della missione ma Pierce è sparato a caso e quindi via come adesso sta sparando alla casa a caso non c'è nessuno a chi spara guarda guarda che volo ha fatto guarda che figa la ruota completamente dorata guarda guarda che figa il fatto che la macchina distrutta ciao tiuz piacere di conoscerti è quella di è del tedesco ah no è tedesco ah è il tuo amico niente the stick of truth chi è? che hai capito scusami che deficiente che è quello di stico no è il personaggio del videogioco dei cosi di South Park eh che parla in quel modo ma quale? non mi ricordo ma parlavo in quel modo che scemo sì il coso quello che gli mettono un sacco di robe dentro il culo ma chi è questo? spacca tutto Nils e Nils aiuto sono bagatissimo spacchiamo tutto venga sei un tacchino il blindato tutti andiamo mamma mia è peggio dell'aereo il laser infinito il blindato è il più forte è il veicolo più forte è indistruttibile poi guarda quando mi giro che non riesce ad andare il mio tempo della visuale il laser no da me invece sì no da me vabbè ragazzi abbiamo distrutto abbiamo fatto un po' di casino anche oggi su Steelport qua da DJ Tews e Turve do Marats no Amadeus si è scritto qua no Turve do Marats aia va bene Amadeus è tutto e ci vediamo al prossimo video bella bella